Buongiorno a tutti, mi è arrivata in questo momento la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che attendavamo da tempo, che ha stabilito che non c'è evasione e soprattutto che non ci sono stati raggiri e tracchiggi per come aveva ipotizzato il Pubblico Ministero che mi ha fatto arrestare. L'altra cosa importante è che oltre il 50% dei costi la Commissione Provinciale Tributaria li ha riconosciuti inerenti, cioè legittimi, quindi significa che con anche la vecchia norma non sarebbe scattata neanche il penale. Aspettiamo ancora un'altra sentenza negli ultimi due anni, però ci tenevo a dirvi che l'organo tecnico deputato a fare queste valutazioni è la Commissione Tributaria. Ieri pomeriggio ha depositato questa sentenza, il che significa che probabilmente più di qualcuno dovrebbe essere ricoverato in qualche manicopio psichiatrico. A dopo!